IVA è commercio elettronico, imposta sul valore aggiunto e vendere online. 10 cose 10 che devi assolutamente sapere se hai un business online o offline. Sono comunque delle regole base fondamentali di cui hai bisogno per orientarti, utilizzarle come bussola all'interno della tua vita professionale. L'IVA è una materia estremamente complessa, con delle regole di fondo, se vogliamo, estremamente semplici, ma che purtroppo nel corso dei decenni, sia per una legiferazione eccessiva da parte del legislatore nazionale, piuttosto che europeo, sia per i continui cambiamenti, sia per anche le differenti lingue nella quale poi viene implementata e non è una cosa banale all'interno dei diversi paesi dell'Unione Europea, quindi anche a causa dei fraintendimenti che possono nascere tra i diversi paesi, è diventato obiettivamente di difficile applicazione, soprattutto per chi non ne capisce nulla o banta conoscenze, e mi riferisco ai presunti colleghi, che di fatto in realtà non hanno, per cui purtroppo oggi è possibile trovare su internet tutto e il contrario di tutto. In realtà l'IVA ha una matrice comune, come sappiamo i FIAT in una direttiva europea, però come vi dicevo prima, poi essendo stata implementata di volta in volta, perché poi è una normativa cangiante dai differenti stati membri attraverso leggi nazionali, può variare da un paese all'altro e questa la rende la gestione, quindi soprattutto nell'ottica di internazionalizzazione del business, la rende difficile gestione e applicazione, di nuovo per i non addetti ai lavori. Oggi quello che cercheremo di portarci a casa sono dieci regole, cercheremo quindi di andare a sfatare dieci miti, e di portare a casa dieci principi che possono orientarci e fare chiarezza una volta e per tutte, perlomeno a livello macro, sulla corretta applicazione dell'IVA. Partiamo tra un secondo. Ciao, io sono Luca Taglielatela e oggi ti parlo di imposta sul valore aggiunto. Purtroppo c'è grossa confusione in materia e questo purtroppo non solo a causa dell'incompetenza della differente consapevolezza rispetto a un addetto ai lavori da parte degli utenti, perché giustamente non potrebbe essere diversamente, ma anche a causa di consulenti o presunti tale che puntano il dito, si arrogano conoscenze che evidentemente non sono nella loro disponibilità mentale e intellettuale. Ma partiamo senza perderci troppo, inferendo su terze parti, soprattutto senza fare nomi, perché dice che è politically incorrect. Devi sapere che l'IVA, quando si parla di e-commerce, questo probabilmente è una macro distinzione, spero che se fai business tu l'abbia già sentita, va distinto l'e-commerce diretto dall'e-commerce indiretto. Per e-commerce diretto si intendono le prestazioni di servizi resi a mezzo elettronico, quindi tendenzialmente tramite internet, per e-commerce indiretto invece si fa riferimento alla vendita a distanza di beni, quindi è quella parte di e-commerce in cui i beni fisici vengono venduti, in cui il contratto, la stipula, la compravendita avvengono di fatto online, quindi tramite sito internet, però la spedizione è ancora alla vecchia maniera, quindi fisicamente ovviamente non potrebbe essere diversamente, finché non inventano uno smaterializzatore, il bene fisico viene spedito dal cedente fornitore o all'interno dello stesso paese o verso un paese terzo dove si trova l'acquirente. Queste due macro aree, e-commerce diretto e indiretto, subiscono l'applicazione di normative IVA tecnicamente differenti, che poi nel tempo tendono a convergere, però dobbiamo sapere che è una cosa, e i servizi, sono i servizi elettronici, i servizi resi a mezzo elettronico e-commerce diretto, una cosa è la compravendita di beni, quindi pensiamo per esempio banalmente al dropshipping. Ok, ma quindi partiamo ovviamente dall'inizio. Numero 1, qual è questa lista di servizi resi a mezzo di internet? È stata di una serie, di una lista in realtà estremamente lunga e dettagliata, che troviamo nella direttiva IVA dell'Unione Europea, in cui tendenzialmente tendono a rientrare tutti quei servizi che possono essere resi automaticamente o semi-automaticamente, dove l'intervento umano è estremamente limitato. Ritorneremo tra l'altro sull'elemento dell'intervento umano, quando più tardi vi darò un consiglio sulla pianificazione fiscale per quanto riguarda l'organizzazione dei flussi IVA. Ma rimarriamo quindi sui servizi. Tipicamente i servizi più diffusi di internet, i primi che mi vengono in mente, sono l'hosting, piuttosto che la fornitura di software, piuttosto che la fornitura di file musicali, piuttosto che l'utilizzo di le informazioni rese dalle riviste online, piuttosto che i motori di ricerca. Questi rientrano nei servizi che vengono considerati resi a mezzo elettronico. Mentre esistono poi tutta un'altra serie di servizi, su cui si fa molta confusione, che in realtà sono esclusi e quindi non sottostanno alle regole IVA dei servizi resi a mezzo elettronico, dell'e-commerce diretto. Quindi tendenzialmente, per esempio, sono escluse da queste regole le prestazioni rese dai professionisti, per il tramite di mail, quindi una consulenza che posso dare io tramite email a chi mi scrive sulla mia casella di posta elettronica, piuttosto che l'assistenza telefonica, piuttosto che i servizi di insegnamento a distanza. E anche i servizi delle radio e delle televisioni, quindi di radiodiffusione e televisivi, questi anche se sono resi tecnicamente tramite mezzo elettronico, vengono esclusi dalle regole generali di applicazione che si vengono applicate invece all'e-commerce diretto. La regola generale dell'e-commerce diretto è che l'IVA, questo ricordatelo sempre, è a carico del consumatore, cioè 9 volte su 10 nelle operazioni, nelle prestazioni di servizi elettroniche, l'IVA è di competenza del paese del consumatore, cioè il consumatore ovunque esso sia all'interno dell'Unione Europea, deve pagare l'IVA di riferimento del paese in cui si trova. E poi partiamo con degli esempi pratici per farvela un attimino più semplice. Pensiamo per esempio a un'azienda giapponese che vende un software a un cittadino tedesco, quindi un classico caso di B2C, di business to consumer. Dalla parte abbiamo l'impresa giapponese, dall'altra abbiamo un cittadino tedesco che invece si trova evidentemente all'interno dell'Unione Europea. Ecco, in questo caso vale la regola generale, l'IVA è di competenza e va pagata dal consumatore tedesco, per cui la società giapponese dovrà identificarsi e finire l'IVA in Germania, vedremo anche questo più avanti, e il cittadino tedesco deve tecnicamente pagare l'IVA che pagherebbe se acquistasse quel medesimo software da un'azienda tedesca. Esempio numero uno. Esempio numero due, una società svedese che vende invece un corso online ad un consumatore spagnolo. Quindi abbiamo in questo caso due società all'interno dell'Europa, dello spazio economico europeo, in cui di nuovo si verifica la condizione del B2C, cioè del business to consumer. La società svedese, l'acquirente è un privato consumatore cittadino spagnolo, l'IVA è territorialmente competente in Spagna, e quindi colui che compra il soggetto pagante, nel prezzo dovrà essere inclusa anche l'IVA rilevante in Spagna. Esempio numero tre, pensiamo invece ad un'azienda italiana, quindi cambiamo, passiamo dal B2C al B2B, un'azienda italiana che vende un e-book a un'azienda slovacca. Quindi è un caso invece di business to business. In questo caso si applica invece la regola di non imponibilità. Si tratta in realtà di una vendita o di un acquisto, se lo vediamo dall'altra parte, intra-UE, in cui l'IVA è non imponibile. Per quanto riguarda l'Italia, si è l'articolo 6,3 DPR 633 del 72, per chi volesse approfondire. Quindi chi emette la fattura, l'azienda italiana, emetterà una fattura non imponibile. Quindi c'è soltanto il prezzo, ma non c'è il riferimento all'IVA, c'è soltanto la base imponibile IVA, ma non c'è l'imposta. Principio numero 2. Spostiamoci invece nel campo dell'e-commerce indiretto, quindi faccio riferimento al dropshipping, faccio riferimento alle compravendite, parzialmente a quello che avviene con Amazon. In realtà la disciplina Amazon dal 2021 subirà delle modifiche, ma comunque rimaniamo nell'ambito del dropshipping e delle vendite online, delle vendite cosiddette a distanza di beni. Qual è la regola generale? Allora in questo caso, fino al 31 dicembre 2020, ricordiamo che stiamo registrando questo video a luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020 vale la seguente regola. L'IVA è di competenza del paese che vende fino a una certa soglia di fatturato, di vendita. Superata quella soglia, l'IVA diventa di competenza invece del paese dell'acquirente. Facciamo anche qui un esempio per darvi immediatamente l'idea di come va gestita la cosa. Pensiamo quindi ad una società tedesca, questa volta, che vende a un privato cittadino francese. Quindi società tedesca, soggetto passivo, partita IVA, impresa, azienda, soggetto privato consumatore francese. In questo caso la soglia, bisogna fare riferimento di vendite in Francia, è di 35 mila Euro. Cioè, se l'azienda tedesca vende meno di 35 mila Euro, se 35 mila è meno e la soglia è il suo fatturato nei confronti della Francia, allora la Germania applicherà l'IVA tedesca in fattura. Se invece, o perlomeno al momento in cui questa soglia viene superata, quindi da 35 mila e un Euro, e allora l'IVA diventa invece di competenza francese. Quindi sopra i 35 mila Euro l'IVA che andrà applicata è il 20% in Francia. Quindi sopra e sotto soglia. Ora, all'interno dell'Unione Europea le soglie sono differenti e quindi bisogna saperle gestire con intelligenza. In ogni caso i software di gestione lo fanno in maniera automatica. Dal 1 luglio 2019 la soglia più bassa è quella oggi in Unione Europea della Romania, che è una soglia di 25 mila e 305 Euro, se non vado errato, dopodiché troviamo una soglia di 100 mila Euro di fatturato ed è tipica dell'Italia, dell'Olanda, del Lussemburgo e della Germania, chiedo scusa, mentre poi l'altra soglia, la terza residuale, quella di 35 mila Euro applicabile, come abbiamo visto nel caso nella Francia, ma nella maggior parte degli altri paesi. Grazie a tutti!